Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e la variante di Valico per il transito di trasporti eccezionali. Sulla FIPILI per lavori in direzione Firenze ci sono rallentamenti tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11. Tutte le info sui nostri canali social. Fra Accordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. I treni, ricordiamo che fino al 2 settembre per lavori di potenziamento la linea Bologna-Prato è interrotta tra Prato e Pianoro. Orsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!